Alexander Dumas, scrittore e drammaturgo francese, spesso chiamato Alexander Dumas padre per distinguerlo dal figlio omonimo, nacque a Villers-Cotteret il 24 luglio 1802 e morì a Neville-le-Dieppe il 5 dicembre 1870. Maestro del romanzo storico e del teatro romantico è famoso soprattutto per i capolavori il conte di Monte Cristo e la trilogia dei moschettieri, formata da i tre moschettieri, vent'anni dopo, e il visconte di Bracelon. Alexander Dumas era figlio di un generale della rivoluzione francese, il quale in seguito combatté anche al fianco di Napoleone. Il suo nome era Thomas Alexandre David de la Pelleterie, noto in Francia come generale Dumas. Il generale era di origini etniche miste, in quanto figlio di un marchese francese e di una schiava di etnia africana originaria di Haiti, detta la femme Dumas, ossia la donna della masseria. Lo scrittore Dumas era quindi per un quarto di ascendenza afro-caraibica. Gli studi di Alexander Dumas non poterono essere molto approfonditi, data la penuria di denaro, ma molto presto il futuro scrittore manifestò uno spiccato interesse per la letteratura di ogni genere. A causa delle ristrettezze economiche, inizialmente si mise a lavorare nell'albergo del nonno materno, che si trovava sulla strada per Suasson, dove Alexander fu anche iniziato alla cucina. In seguito, nel 1823, si trasferì a Parigi, dove a 21 anni entrò al servizio di Luigi Filippo, duca di Orléans, che poi divenne re dei francesi. E vi entrò come copista, grazie alla sua calligrafia e parallelamente iniziò anche a scrivere testi per il teatro e a proporli agli impresari e ai grandi attori dell'epoca. La sua vulcanica creatività lo portò, nell'arco della vita, a pubblicare circa 60 opere teatrali e oltre 250 tra romanzi, memorie e diari di viaggio. Nelle sue opere, la fantasia degli intrecci spesso si coniuga a vicende e situazioni inverosimili. Ciò avviene anche nel libro Viaggio in Calabria, che appare pieno di brio, di analisi psicologiche e di avventure divertenti. Iniziò ad esplorare il Mediterraneo insieme all'amico pittore Jaden e al cane Milord e tenne un diario di viaggio. Fu così che il suo interesse per il sud Italia, in cui si respirava un'atmosfera stimolante, a lui congeniale, di vitalità e di fantasia, lo spinse, sempre in compagnia dell'amico pittore Jaden e del cane Milord, ad effettuare nel 1835 un lungo viaggio in Sicilia e in Calabria, che gli riservò ulteriori interessi conoscitivi. Nel suo viaggio in Calabria mostrò un grande interesse per ogni cosa, annotando tutto e subendo anche il fascino delle leggende romanzesche tramandate dalla fantasia popolare. Il viaggio in Calabria del Dumas costituisce una raccolta di sensazioni suscitate nell'immediatezza dalla visione oggettiva dei fatti e dei fenomeni percepiti, ma successivamente trasportate in un'atmosfera romanzesca, attraverso stimolazioni suggestive elaborate in trasposizione fantastica. Il libro diario si offre al lettore, con tutta la piacevolezza e la scorrevolezza, di un romanzo di avventura, in cui lo scrittore talvolta sembra quasi aver assimilato il piglio sfrontato e scansonato di un guascone, tipico di alcuni personaggi dei suoi celebri romanzi.